Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano. Oggi che è il venerdì 30 di luglio del 2021, noi siamo qui per leggere la parola del Signore. Noi stiamo concludendo un'altra settimana, un altro mese con la grazia di Dio e ci auguriamo di poter continuare a leggere la parola del Signore nel prossimo mese di agosto come il Signore ci darà la gioia e l'opportunità. Quest'oggi noi leggeremo sempre il libro di Primo Re. Primo Re noi stiamo leggendo, leggeremo in effetti la puntata di oggi del 30 di luglio, il capitolo 6 completamente, poi il capitolo 7 fino al versetto di numero 12, parola del Signore. Primo Re, capitolo 6, leggiamo la Bibbia insieme. Il quattrocentoantesimo anno dell'uscita dei figli d'Israele dal paese d'Egitto, nel quarto anno del suo regno sopra Israele, nel mese di Siv, che è il secondo mese, Salomone cominciò a costruire la casa per il Signore. La casa che il re Salomone costruì per il Signore aveva 60 cubiti di lunghezza, 20 di larghezza, 30 di altezza. Il portico su davanti del luogo santo della casa si estendeva per 20 cubiti rispondenti alla larghezza della casa ed era profondo 10 cubiti sul davanti della casa. Il re fece alla casa delle finestre a reticolato fisso. Egli costruì a ridosso del muro della casa tutto intorno dei piani che circondavano i muri della casa, cioè del luogo santo e del luogo santissimo, e fece delle camere laterali tutto intorno. Il piano inferiore era largo 5 cubiti, quello di mezzo 6 cubiti e il terzo 7 cubiti, perché egli aveva fatto delle sporgenze intorno ai muri esterni della casa, affinché le travi non fossero incastrate nei muri della casa. Per la costruzione della casa si servirono di pietre già preparate nella cava, così nella casa durante la sua costruzione non si udì mai rumore di martello, d'ascia o di altro strumento di ferro. L'ingresso del piano di mezzo si trovava sul lato destro della casa, per una scala a chiocciola. Si saliva al piano di mezzo e dal piano di mezzo al terzo. Dopo aver finito di costruire la casa, Salomone la coprì di travi e di assi di legno di cedro. Fece i piani addossati a tutta la casa, dando ognuno 5 cubiti di altezza, e li collegò alla casa con travi di cedro. La parola del Signore fu rivolta a Salomone e gli disse, Quanto a questa casa che tu costruisci, se tu cammini secondo le mie leggi, se metti in pratica i miei precetti e osservi e segui tutti i miei comandamenti, io confermerò in tuo favore la promessa che fece a Davide tuo padre. Abiterò in mezzo ai figli di Israele e non abbandonerò il mio popolo Israele. Quando Salomone ebbe finito di costruire la casa, ne rivestì le pareti interne di tavole di cedro, dal pavimento fino alla travatura del tetto. Rivestì così di legno l'interno e coprì il pavimento della casa con tavole di cipresso. Rivestì di tavole di cedro uno spazio di 20 cubiti in fondo alla casa, dal pavimento al soffitto, e riservò quello spazio interno per farne un santuario e luogo santissimo. I 40 cubiti sul davanti formavano la casa, vale a dire il tempio. Il legno di cedro nell'interno della casa presentava delle sculture di frutti di coloquintide e di fiori sbocciati. Tutto era di cedro. Non si vedeva neppure una pietra. Salomone stabilì il santuario nell'interno in fondo alla casa per collocarvi l'arca del patto del Signore. Il santuario aveva 20 cubiti di lunghezza, 20 cubiti di larghezza e 20 cubiti di altezza. Salomone lo ricoprì d'oro finissimo davanti al santuario, fece un altare di legno, di cedro e lo ricoprì d'oro. Salomone ricoprì d'oro finissimo l'interno della casa e fece passare un velo sospeso da catenelle d'oro davanti al santuario che ricoprì d'oro. Ricoprì d'oro tutta la casa, tutta quanta la casa e ricoprì d'oro tutto l'altare che apparteneva al santuario. Fece nel santuario due cherubini di legno, d'olivo dell'altezza di 10 cubiti ciascuno. Le ali dei cherubini misuravano 5 cubiti ciascuna, tutto l'insieme faceva 10 cubiti dalla punta di un'alla alla punta dell'altra. Il secondo cherubino era anche di 10 cubiti, tutte e due i cherubini erano delle stesse dimensioni, della stessa forma. L'altezza del primo cherubino era di 10 cubiti e tali era l'altezza dell'altro. Salomone pose i cherubini in mezzo alla casa nell'interno. I cherubini avevano le ali spiegate, in modo che l'alla del primo toccava le pareti e l'alla del secondo toccava l'altra parete. Le altre ali si toccavano l'una con l'altra, con le punte in mezzo alla casa. Salomone ricoprì d'oro i cherubini. Fece ornare tutte le pareti della casa intorno, tanto all'interno quanto all'esterno, di sculture di cherubini, di palme e di fiori sbocciati. Ricoprì d'oro il pavimento della casa nella parte interna e quella esterna. All'ingresso del santuario fece una porta a due battenti di legno d'olivo. La inquadratura con gli stipiti occupava la quinta parte della parete. I due battenti erano di legno d'olivo. Egli vi fece scolpire dei cherubini, delle palme e dei fiori sbocciati. E li ricoprì d'oro estendendo loro sui cherubini e sulle palme. Fece pure per la porta del tempo degli stipiti di legno d'olivo che occupavano un quarto della larghezza del muro. I due battenti di legno di cipresso, ciascun battente si componeva di due pezzi mobili. Salomone vi fece scolpire dei cherubini, delle palme e dei fiori sbocciati e li ricoprì d'oro estendendolo sulle sculture. Costruì il muro di cinta del cortile interno con tre ordini di pietre squadrate e un ordine di travatura di cedro. Il quarto anno nel mese di Ziv furono gettate le fondamenta della casa del Signore. E l'undicesimo anno nel mese di Bull che è l'ottavo mese la casa fu terminata. In tutte le sue parti come era stata progettata Salomone la costruì in sette anni. Primo re capitolo 7 parola del Signore leggeremo fino al versetto di numero 12. Poi Salomone costruì il suo palazzo e lo terminò interamente in tredici anni. Costruì la casa detta foresta del Libano. Era di 100 cubiti di lunghezza di 50 di larghezza e di 30 di altezza. Era basata su quattro ordini di colonne di cedro sulle quali poggiava una travatura di cedro. Un soffitto di cedro copriva le camere che poggiavano sulle 45 colonne e 15 per fila. C'erano tre file di camere le cui finestre si trovavano le une di fronte alle altre lungo tutte e tre le file. Tutte le porte con i loro istipiti e architravi erano quadrangolari. Le finestre delle tre file di camere si trovavano le une di fronte alle altre in tutte e tre gli ordini. Fece pure il portico a collone che aveva 50 cubiti di lunghezza e 30 di larghezza con un vestibolo davanti delle collone e della scalinata sul davanti. Poi fece il portico del trono dove amministrava la giustizia che fu chiamato portico del giudizio. Lo ricoprì di legno di cedro dal pavimento al soffitto. La sua casa dove abitava fu costruita nello stesso modo in un altro cortile dietro al portico. Fece una casa dello stesso stile di questo portico per la figlia del faraone che egli aveva sposata. Tutte queste costruzioni erano di pietre scelte tagliate a misura segate internamente ed esternamente dalle fondamenta ai cornicioni e al di fuori sino al cortile maggiore. Anche le fondamenta erano di pietre scelte grandi pietre di 10 cubiti e pietre di 8 cubiti. Sopra di esse c'erano delle pietre scelte tagliate a misura e del legname di cedro. Versetto 12 Il gran cortile aveva intorno tre ordini di pietre lavorate e un ordine di travi di cedro come il cortile interno della casa del Signore e come il portico della casa. Parola del Signore. A Dio piacendo lunedino e riprenderemo la nostra lettura e quindi partiremo da Primo Re capitolo 7 versetto 13. Io ringrazio il Signore per questo tempo in cui noi possiamo leggere la nostra Bibbia la parola del Signore dico nostra perché abbiamo fatto della parola di Dio la parola per la nostra vita. Che questa parola sia guida per la tua vita. Pensa riflette applica questa parola nel tuo cuore. Ti invito anche a pregare con me tutti i giorni anzi in questo periodo estivo ancora il mese di agosto lunedì, mercoledì e venerdì quando continueremo a pregare per il Signore e per la grazia di Dio leggendo la parola di Dio tutti i giorni per la grazia e per la misericordia di Dio ringraziandolo e conoscendo la sua parola e così diventando servi obbedienti che collaboriamo con la sovrana volontà di Dio. Io a te ti do un fortissimo abbraccio un santo bacio che la grazia del Signore stia nella tua vita nel nome di Gesù leggiamo sempre la parola del Signore insieme metti un like e condividi la parola del Signore per la tua vita nel nome di Gesù e condividi la parola del Signore